Conclusasi la settimana caratterizzata dalla pausa del campionato, causa sosta nazionali, il Palermo ha iniziato ieri il lavoro settimanale in vista del prossimo impegno contro il Cagliari, partita in programma domenica pomeriggio tra le muramiche del Renzo Barbera. Per il rosa-nero al tenente onorato di Bocca di Falco, dopo gli esercizi di attivazione muscolare, un riscaldamento tecnico seguito poi dal lavoro a secco e partitella a tema campo ridotto. La seduta è stata poi conclusa da una partita. Andrea Rispoli ha lavorato in parte con i compagni, proseguendo poi con un lavoro differenziato, fisioterapie invece per Slobodan Rajkovic. Norbert Balog, Tiago Cione, Kivailo Ciocev, Josip Posevec e Roland Salai sono rientrati dagli impegni con le rispettive nazionali e si sono allenati regolarmente con i compagni. Attesi invece ancora i ritorni di Giancarlo Gonzalez, Mato Iaialo, Ilia Nestorowski, Tony Sunic e Alexander Traikovsky. Sempre ieri, prima della seduta d'allenamento, è intervenuto in conferenza stampa il centrocampista Alessandro Gazzi che ha così caricato l'ambiente. Il nostro obiettivo in questo momento non è domenica col Cagliari ma lavorare bene giorno per giorno da oggi fino a domenica. Lavorando solo in questa maniera qua, dando tutto in ogni momento dell'allenamento, rimanendo concentrati per tutta la durata dell'allenamento e mettendo l'intensità giusta, lavorando bene, solo così possiamo renderci conto di quello che possiamo fare ogni domenica e come mettere in difficoltà i nostri avversari.